Grazie a tutti. Andiamo a vedere il titolo del giornale diretto da Sansonetti. Per l'imprenditore 34enne assassinato per cause tuttora oscure nella sua macelleria di Simerimare lo scorso 14 aprile comunità intere si sono spostate per dare l'ultimo saluto a Francesco da Simeri a Sellia a Marina passando fino a Soveria. Insomma un vero e proprio abbraccio per una vittima la cui fine deve essere ancora chiarita. Sempre da Catanzaro andiamo a vedere insieme un altro titolo taglio basso sulla prima pagina della garantista. Anche i sindacati in piazza contro la criminalità convinta del segno di CGL Cisle Will e la manifestazione del prossimo 24 aprile presente anche la proloco cittadina. Cambiamo pagina, cambiamo anche argomento. Esclusione davvero illogica. Il gruppo Catanzaro nel cuore commenta la scelta di Scura di tenere fuori il Sant'Anna dalla nuova rete ospedaliera. La rete dell'emergenza urgenza che ha visto la clamorosa esclusione del Sant'Anna Hospital dal novero dei cosiddetti ospedali hub della regione. Ancora da questa pagina la politica reagisce, vedete, alle scelte del neocommissario alla sanità. L'azienda unica potrebbe risolvere i problemi secondo il PD. Elena Bova appoggia la proposta del presidente della regione Oliverio. Siamo arrivati al piano di rientro perché non abbiamo mai avuto un vero sistema. Titolo a tutta pagina, siamo a Chiaravalle. Nominato il commissario dopo le dimissioni dei consiglieri sarà Costanza Pino a traghettare l'ente fino a nuove elezioni. La mezzia terme verso le elezioni comunali nella terza città della Calabria. Prove di dialogo, ma c'è chi pone un veto su sinistra, ecologia e libertà. Ieri l'incontro tra il commissario del PD e il candidato sindaco del centro-sinistra. Ma proprio dal partito arriverebbe il Niet all'alleanza con Rosario Piccioni. E poi, vedete, Sonni, una novità rispetto alla politica tradizionale. Così il commissario Pino Soriero ha dato ieri il benvenuto nella sede del PD al candidato sindaco di tutta la coalizione di centro-sinistra. L'uomo che ha vinto le primarie della scorsa domenica alla mezzia terme. Nocera Terinese, non ci fu nessun favoritismo. Il sindaco Rocca coinvolto nell'inchiesta Hopl si difende e risponde agli attacchi del PD. La regione ha detto no al ripristino del lungomare. Prima bisogna realizzare le barriere di protezione. Intimidazione, un atto pessimo che merita la nostra condanna. Il grave attentato la scorsa notte alla farmacia Ferroleto è stato duramente condannato dal vescovo di La Mezzia, Luigi Cantafora. Dalla mezzia terme a Vibo, Valencia. Ancora dalle pagine della garantista. Elezioni amministrative. La giunta dovrà essere composta da molte donne. Lo schiavo incontra le candidate della coalizione di centro-sinistra. Con lui anche Doris Lomoro. A differenza di altri, ha la capacità di essere culturalmente attrezzato per il cambiamento. Ha detto la parlamentare Lamettina, riferendosi al giovane notario candidato a sindaco per il comune di Vibo, Valencia. Si chiude il festival dell'economia, boom di presenze. Dunque è finita la Kermes durata tre giorni, organizzata da Rete MMT e dal suo coordinatore Alessandro De Salvo, che ha messo insieme uno degli economisti calabresi più stimati, il professore Damiano Silipo, docente di economia all'Unical, con altri due suoi colleghi di enorme fama internazionale. L'americano Warren Mosler, cofondatore del Centro per il pieno impiego e la stabilità dei prezzi dell'Università di Missouri, in Kansas City, e il francese Alain Parghè, già consulente di Mitterrand e docente di economia presso l'Università de France. Quindi davvero un grande evento che si è realizzato con il contributo del sistema bibliotecario vibonese e di varie istituzioni sul territorio, tra cui Confindustria. Qui vedete i protagonisti del Festival dell'Economia che si è concluso nella giornata di ieri. Da Vibo Valenze sulla piana di Gioia Tauro andiamo a Delia Nuova, associazione Spadaro, adesso ha una casa per la scuola di musica, grazie al PON Sicurezza, l'amministrazione comunale ristruttura un'ala del plesso in disuso, dandola alla famosa orchestra giovanile. Tauria Nuova, un disegno di legge in Senato, il Careri rappresenta la Calabria. Poi sempre dalle cronache della piana di Gioia Tauro, andiamo a San Ferdinando, gestione della Tendopoli per i migranti, bando dell'ente per l'affidamento. La manifestazione si chiuderà il 27 aprile ed è rivolta ad associazioni di volontariato. La Locride, emergenza, sbarchi, vedete le parole del Vescovo, non arrendiamoci all'indifferenza, così Monsignor Francesco Liga va a religiosi e laici, abbiamo rinzerrato i cancelli del nostro cuore, ha detto ieri il prelato. Ancora nel colpo del testo andiamo a vedere alcune sue considerazioni. Noi siamo la Locride, il sud del sud, terra di immigrazione e di emigrazione, ha detto Oliva. Noi è richiesto di dare una mano agli immigrati, non una fredda accoglienza. Dunque un invito ad aprire le porte, ad accogliere i disperati profughi che arrivano dal mare, in qualche modo reagendo alle proteste delle scorse settimane da parte di alcune comunità locali del Regino. Torniamo sul quotidiano del sud, torniamo ad occuparci delle cronache provinciali, ripartendo in questo caso da Vibo Valencia. Siamo alla politica perché si avvicinano le elezioni comunali e questa mattina ritroviamo sul quotidiano un'intervista a tutta pagina di Ottavio Bruni, leader dell'Udc ed ex presidente della provincia, oltre che ex consigliere regionale. Un'intervista rilasciata al quotidiano del sud. Bruni sulla candidatura a sindaco di Elio Costa, dice, è una figura necessaria per la città, quella dell'ex magistrato. L'esponente dell'Udc tuona nel caos in cui si trova Vibo, la sua autorevolezza è un punto di forza. Andiamo a leggere insieme l'attacco del pezzo a firma di Gianluca Prestia. Nel caos nel quale Vibo è sprofondata, quella di Costa è una figura autorevole necessaria per riportare ordine. Bruni ne è certo, forte della sua pluridecennale esperienza politica che l'ha visto dalla guida della provincia e poi in consiglio regionale. Non ha alcun dubbio Bruni sulla scelta di appoggiare l'ex magistrato nella corsa alla poltrona di sindaco. Le altre notizie, vedete, sempre politica. sul fronte opposto, quello del centro-sinistra, si va verso le elezioni comunali con l'annuncio del candidato sindaco, un annuncio importante. Molte donne, dice, saranno nella mia giunta. Far passare il concetto che devono stare dentro i processi decisionali è fondamentale. Dunque sarà una giunta con molte presenze in rosa. Non tanto, detto l'altra sera, lo schiavo per aderire ad un obbligo normativo, quanto perché è necessario rendere le donne partecipi dei processi decisionali che poi servono e danno un contributo fondamentale di qualità nella gestione del comune. Intanto interviene a gamba tesa nella campagna elettorale il segretario del circo del PD di Piscopio Cutrullà. Lo schiavo è sinonimo di una classe dirigente giovane e onesta. Poi l'attacco a Costa, che secondo lui torna in gioco soltanto per vendicarsi di chi lo ha mandato via dieci anni addietro. Festival dell'economia, anche sul quotidiano. Ampio spazio alla Kermess conclusesi nella giornata di ieri, organizzata da un comitato tecnico di esperti. Tre giorni di dibattito e confronto. La conclusione ieri con Warren Mosler e Alain Perghè, con loro anche Damiano Silipo, docente di Economia all'Unical. L'evento ha coinvolto numerose scuole, allarmanti i numeri della disoccupazione a livello regionale e nazionale. Un nuovo sbarco di disperati. In 160 sono arrivati nella serata di ieri al porto di Vibomarino. Dopo i primi controlli sanitari saranno destinati in strutture di Campania e Lazio. Hanno fatto scalo a Trapani e dopo le 20.30 hanno toccato il suolo vibonese. 160 profughi. Per loro storie diverse, nazioni diverse. Un unico scopo è quello di trovare una sistemazione che ovviamente nel loro paese non sono riusciti ad avere. Sempre dal quotidiano, andiamo ad occuparci adesso dell'universo dei Rom bulgari in Italia. In stampa l'ultimo lavoro della sociologa vibonese Maria Rosaria Chirico. Tre anni di ricerca tra gli insediamenti spontanei di Roma e le case della Calabria. Da Vibbo alla Mezzeterme. L'evento presentato questa mattina, l'evento del cinema con Carlei. Vedete, dovere morale essere qui. Importante il cinema nel cuore della città senza andare fuori in macchina. Il regista incontra gli studenti al Grandinetti dopo la proiezione di Romeo e Giulietta. sempre da Lamezzia. Bomba alla farmacia. Interviene il Vescovo. La città non si riconosca nella puzza della corruzione. Solidarietà anche da affittante. Nocera Terinese. Operazione Hopeless. Un altro indagato. Avviso di garanzia anche per Rolando Barletto. Edilizia scolastica. L'ipsia priorità della provincia. L'Istituto Lamettino al primo posto nella richiesta di finanziamenti regionali. Da anni si aspetta un efficace intervento di ristrutturazione. E poi ancora, vedete, gli insegnanti bocciano in coro il piano del governo Renzi. Lo abbiamo già visto su diverse pagine di vari quotidiani calabresi ed anche nazionali. Lo vedremo tra pochissimo. Questa mattina, incontro dei docenti contro il disegno di legge del governo. L'area tirrenica regina. Ripartiamo da Scilla. Imprese con i fondi dei grillini. Microcredito con gli stipendi restituiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Per il prestito, che ha un tetto da 25 mila euro, non occorrono garanzie reali. Da Scilla a Villa San Giovanni. Il centro-sinistra scende in campo a sostegno della candidatura di Cosimo Emanuele Freno. Domani la presentazione ufficiale dell'aspirante sindaco. Campo Calabro per l'arte locale è un trionfo in Australia. Il riconoscimento della giunta del concorso letterario internazionale con il dipinto dal tema incontro al Polo Nord premiata l'insegnante Clara Giandolfo. Queste le pagine del quotidiano del Sud che continuiamo a leggere andando proprio nella città dello Stretto, a Reggio Calabria. Un palazzo di giustizia da rottamare. Ascensori di nuovo fermi, pulizia, singhiozzo e lavoratori sul piede di guerra. Funziona solo l'ascensore riservato ai magistrati. Dura polemica dell'Uilp. Il sindacato interviene in questa vicenda. A centropagina vedete l'allarme di questa mattina e il ritrovamento di un rapace a Salice di Catona nello Stretto di Messina. È iniziata la mattanza dei falchi e migratori. Una strage che si ripete ogni anno. La pagina del sociale, ancora da Reggio Calabria. Tutti uniti per spiccare il volo. Assemblea provinciale del forum del terzo settore all'auditorium Surace. Tra nuovo assetto organizzativo e sfide dell'associazionismo e della cooperazione. Varie le proposte. Ancora da Reggio. Nosside Pitagoras. La polizia tra i banchi. E ancora la vicenda Atam. Domani nuova giornata di disagi per i trasporti. Infine il libro di Salvo Sottile che verrà presentato sempre domani a partire dalle ore 18 a Porto Bolaro. Reggio città metropolitano. Ruolo centrale anche per le periferie. Importanza della partecipazione per la scrittura di regole condivise. Incontro inaugurale del laboratorio dell'area grecanica Regina. Poi a proposito di zona grecanica andiamo a Motta San Giovanni. Petizione popolare per la messa in sicurezza della strada statale 106. viene promossa dall'Ancandic a chiarirlo questa mattina del quotidiano nel pezzo a firma di Paolo Vacalebre. Condofuri. Vittima di mafia. Un'aula scolastica della scuola Isnardi dedicata a Celestino Fava. Il giovane a 22 anni venne ucciso a Palizzi nel novembre del 1996. Andiamo proprio a Palizzi. Tariffe ridotte a chi è in regola con le tasse. Il sindaco ha presentato la svolta nella macchina amministrativa. Dunque un nuovo piano del fisco. Siamo nella Locride. Ardore. Il comitato civico sceglie Romeo per l'ex primo cittadino. L'endorsement del consigliere regionale Cannizzaro. Prima uscita pubblica del candidato sindaco. Io, dice, a capo di una lista di giovani. Poi la piana di Gioia Tauro con rifiuti escorie non trattati a norma. Le richieste di rinvio a giudizio aprono uno squarcio sulle responsabilità nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Reggio sui veleni dal termovalorizzatore. Dentro la città dell'accoglienza, Palmi. Grande prova di sacrificio in occasione dello sbarco di mercoledì scorso dei migranti. La macchina organizzativa nel racconto del comandante della Polizia locale. Chiudiamo con le pagine di Catanzaro. Partiamo da questo reportage. Centro, la mappa del commercio. I numeri. 14 bar, 20 negozi di abbigliamento e 12 gioiellerie. La ricetta per il rilancio. Parte dal presidente dell'ente camerale. Bisogna di fersificare l'offerta. Sempre da Catanzaro. Codacons. Annullare tutte le multe. Domani gli interrogatori per l'interdizione di vigili e politici nell'ambito dell'inchiesta Catanzaropoli. Dopo la vicenda dei verbali addomesticati, l'associazione lancia la sua provocazione. Andiamo adesso in provincia perché si apre un nuovo dialogo con la Russia. Il presidente Bruno riceve i rappresentanti del paese dell'est. Insieme al presidente di Confindustria, un gruppo di imprenditori è arrivato in Calabria per stabilire una sinergia economico-culturale con le imprese della nostra regione. Soverato. Strada 106. Scongiurati i tagli. Dopo le proteste è evitata la sforbicetta una delle arterie più pericolose. Soddisfatti i componenti dell'associazione di volontariato. Basta vittime. Crotone. Ambiente in primo piano. Il caso Crotone approda in Europa. Il report è stato inserito nell'Atlanta dei confini ambientali italiani. Una delegazione di Fabricando l'Avvenire ha illustrato la situazione dell'inquinamento in città. Ed ora uno sguardo anche alle cronache nazionali. Partiamo dalla pagina d'apertura di Repubblica questa mattina. Draghi alla Grecia. Dovete fare di più se volete salvarvi. La BCE. Vedete, se la crisi precipita finiamo in acque inesplorate. Varoufakis sono ottimista. Padoan parla di misure credibili. E poi al centro questa fotonotizia. Tifo violento devastato lo stadio a Varese. Accrediti i giocatori del Cagliari. Sempre dalle cronache nazionali. Il fatto quotidiano. Renzi da Obama a De Luca. 24 ore dopo gli abbracci con il leader USA. Quelli con il sindaco condannato e candidato del PD in campagna per il Premier. Oggi tour elettorale con la Paita. Poi l'inchiesta sulla marea sporca del Mose e Venezia che rischia il crack dopo lo scandalo. Città in bolletta da Rialto al Casinò. La gazzetta dello sport per concludere la rassegna stampa. Tevez fa le uova a Scudetto. I bianconeri battono la seconda in classifica. Cioè la Lazio che veniva da otto successi. E chiude Bonucci. Trionfo possibile tra due giornate. La Juve sta per conquistare il suo quarto Scudetto di fila. Poi la Formula 1. Vai Vettel. Hamilton è in polma. La Ferrari è lì. Si può vincere. L'inglese della Mercedes brilla anche in Bahrain. Il tedesco però è pronto a mordere. Terzo Rosberg. Quarto Kimi Rae con N ormai è chiaro che questa stagione della Formula 1 sarà monopolizzata da due Scuderie. Mercedes e Ferrari per l'appunto. Chiudiamo ancora con i motori. MotoGP in Argentina. E Marquez Show. Che bravo. Iannone parte in prima fila. La Bruzzese della Ducati si conferma in gran forma. Sorpresa per Espargaro. Valentino Rossi in ritardo. Al momento è soltanto ottavo il via alle 21 di questa sera. Noi ci fermiamo qui adesso perché il tempo a disposizione della rassegna stampa è praticamente scaduto. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domattina. Come sempre alle 7. Buona domenica. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Sulla Calabria che fa notizia.